Ciao a tutti, settembre il mese con ben sei pianeti retrogradi sta volgendo al termine e presto arriverà ottobre, quindi siamo nelle ultime ore. Ottobre ci farà dei regali, settembre ha avuto ben sei pianeti retrogradi. Per fare un recap vi ricordo che abbiamo avuto Mercurio retrogrado, Giove retrogrado, Saturno retrogrado, Nettuno retrogrado, Urano retrogrado e Plutone retrogrado. Quindi tanta pesantezza, tanti rallentamenti e tante situazioni noiose del passato pesanti da risolvere. Invece ottobre ci regalerà il 2 Mercurio in moto diretto, il 9 Plutone in moto diretto dal Capricorno, il 23 Saturno torna diretto nel segno dell'acquario e quindi resteranno retrogradi Urano, Giove e Nettuno con una piccola giunta il giorno 30 ottobre, anche Marte in gemelli diventa retrogrado.